Con l'aumentare dell'età media sono sempre più frequenti i casi di Alzheimer che vengono diagnosticati su scala mondiale, proprio per questo motivo è di rilevante interesse il progetto per la sensibilizzazione alla diagnosi precoce della malattia che viene portato avanti dalla PS Suoragnese dove lavora ed è in collegamento con noi Terri Biason, ideatrice del progetto Una fragile chiave di carta. Buongiorno Terri, ben trovata. Buongiorno a voi e buongiorno e buon anno a tutti i vostri ascoltatori. Un buon anno va da parte nostra anche tutti coloro che non vediamo ma che tuo tramite possiamo raggiungere con grande affetto. Come nasce? Certo, certamente. Abbiamo un cortometraggio che sintetizza un po' appunto gli sforzi che state facendo per favorire la diagnosi precoce dell'Alzheimer. Ecco Terri, come nasce questo progetto? La nostra casa, come abbiamo detto anche nell'altro collegamento, è un po' famosa per fare questi progetti un po' strani per una casa di riposo. Però noi volevamo portare il nostro contributo per riuscire a risollevare un po' questi malati perché l'importanza di questa malattia è proprio la diagnosi precoce. Molto bene, allora noi andremo a vedere con te, con tutti quanti i nostri amici che ci seguono da casa, il cortometraggio che dura alcuni minuti e poi ti ritroveremo per commentarlo insieme. Certo. Lei è Eli e sta andando a pranzo dai suoi genitori Daniele e Marco. Marco, il protagonista della nostra storia è un uomo di 55 anni con una vita apparentemente normale. Da un po' di tempo Eli si accorta che suo padre ha avuto uno strano cambiamento nell'umore e nelle abitudini. Decide quindi di indagare tra le persone a lui più vicine, che purtroppo non fanno altro che confermare i suoi sospetti. Papà, prossimo settimana ti va se andiamo alla fiera delle zucche, dato che ti piacciono? Eh sì, sì, mi piacciono tanto le macchine rosse. Le macchine rosse perché, ma scusa, vuoi comprare una macchina? Dai, dai, andiamo a comprare una macchina. Bella, bella l'idea questa. Ti vuoi prendere una macchina nuova che ha la tua autonomia, è l'età giusta. Ma cosa stai dicendo, Marco? Ma ascolti quando ti parlano. Cosa? Sta parlando della macchina. Vuole... Ma l'ascolti? Io ho la testa che mi rimbomba, che pensavo tutto, tutto, tutto un riverbero dentro. Però, però, però le zucche sono buone, le zucche vanno cucinate con le ricette della nonna. Voi invece mi fate solo confusione, siete le nemiche della casa. Ecco cosa siete. Adesso ho trovato la parola che mi era andata via. E' bene, va. Ma alle cinque si stava già preparando per andare a dormire. Non è normale? Ma amore, dai, te l'ho detto, è stanco. Stai tranquilla, vedrai che poi tutto passa. Io comunque domani vado in palestra e vado in ufficio a chiedere agli amici se non hanno notato qualcosa di strano. Non preoccuparti, dai. Vedrai che va tutto bene. Buongiorno. Buongiorno, ciao. Ciao. Scusate, vi rubo pochi minuti. Siccome a casa siamo un po' preoccupati per papà, ultimamente ha dei comportamenti un po' strani e non sappiamo a cosa sia dovuto. Volevo sapere se anche voi avevate notato qualcosa di ambiguo. Guarda Eli, ti confesso che quando ti ho visto entrare, già mi immaginavo cosa mi avresti chiesto, perché è un periodo che lo vedo particolarmente strano. Non vorrei sembrare in piccione, ma volevo anche farmi sentire, chiamarvi, perché non solo l'ho visto strano, ma per darti un'idea, continui a chiedermi la sua password per entrare nel computer. Password che si è sempre annotato diligentemente, perché lui è un ragazzo molto preciso, annotava tutto. Inoltre l'altra cosa che mi ha colpito è che ogni volta che suona al telefono quasi si spaventa e quando gli chiedi le cose devi farlo più volte. Non è normale purtroppo in questo periodo tuo padre. Guarda Eli, anche io sono molto preoccupato. Tu sai che parcheggiamo la macchina vicino da anni e ultimamente lo vedo un po' spaesato, seduto al volante con la chiave in mano e una volta l'ho visto fare il giro del piazzale e tornare esattamente nello stesso posto. Così mi dice che la fretta gli fa fare cose sbagliate, forse è molto stressato, mi dispiace molto. Avete notato le stesse cose che abbiamo notato io e mia madre a casa. Grazie comunque per la collaborazione. Ci manchia il sogno e siamo qua. Facci sapere. Grazie mille. Ciao Toto, ciao Francesco. Ciao, alligiorno. Volevo dirvi una cosa, siccome noi ultimamente a casa stiamo notando dei comportamenti strani in papà, volevo capire se anche voi avevate notato qualcosa di strano. Guardi, abbiamo parlato con i ragazzi poco fa, Marco non è mai stato irrascibile, ti racconto questa. L'altro giorno andavamo al bar, lui ha ordinato una birra, il camarire le la porta, quando l'era è scattato proprio male, ha avuto una reazione troppo esagerata, si vedeva che era proprio alterato e siamo dovuti intervenire noi, perciò te ne vogliamo parlare. ma purtroppo tutti noi abbiamo avuto qualche esperienza in questo campo perché nella vita succede e tante volte ci si parla e si chiede anche agli amici se hanno esperienze in questo campo. Beh, anche voi avete notato insomma quello che avevamo notato noi a casa, sicuramente porteremo papà a fare una visita. Comunque grazie. Ciao Oreste. Ciao. Come stai? Io tutto bene, a te? Bene dai. Poco fa ho parlato con Toto e con Moserli, ho chiesto delle cose su papà perché io e mamma stiamo notando dei comportamenti un qualcosa di anomalo insomma. Guarda, io e il tuo papà lo conosco bene, ho avuto modo di parlare con lui molte volte, è una persona molto gentile e molto educata, ma credo che abbia qualche problema quindi fai bene a preoccuparti. Proprio l'altra sera è entrato nello spogliatoio, stava cercando di maneggiare la serratura della porta. Io pensavo fosse arrugginita, ma in realtà stavo utilizzando le chiavi della macchina e quindi anche lui era molto imbarazzato. Sicuramente c'è qualcosa che va, però grazie per il tuo parere davvero. Ciao. Buongiorno carissimo signor Marco. Allora abbiamo fatto qualche controllo, abbiamo visto che effettivamente c'è una parte sua qualche piccola difficoltà, ma sono difficoltà che possiamo superare tutti insieme, ovviamente con l'aiuto anche della moglie, della figlia. È un percorso che troverà qualche difficoltà, magari andando col tempo le difficoltà potranno anche leggermente aumentare, però se i suoi cari li stanno vicino sicuramente potremmo superare queste difficoltà. L'importante è oggi avere una diagnosi precoce, cioè fatta in tempo utile che ci consenta di intervenire con i pochi farmaci che ci sono e sull'altro fronte con le attività sociali, con la stimolazione cognitiva eccetera, che sono legati alla sua attività quotidiana. Cioè non occorre che faccia grandi cose particolari, basta che lei continui a mantenersi una vita socialmente ricca, quindi non si iso, non si chiuda in se stesso, non si deprima se di fronte a qualche piccola difficoltà lei ha attorno due persone che la amano e che quindi la potranno sicuramente aiutare. Anche se il timore avrà sempre più argomenti, tu scegli la speranza. In ogni caso la speranza conduce più lontano della paura. Sperare significa che qualcuno ci ami, significa mettersi in cammino verso un altro, mettersi in gioco, significa anche osare, osare di vivere in un altro modo e poi di stare insieme con chi ci vuole bene per amarsi di più. Sì. 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 A voi c'è stata una sorta di solidarietà precoce, potremmo anche dire, perché la tua realtà tra l'altro porta il nome di una suora. Sono interessata a conoscere rapidamente la sua vicenda e il suo esempio. Suora Agnese, chi era? Suora Agnese era una suora dell'ordine di Maria Bambina che insieme ad altre suore sono venuti in questo piccolo paese e hanno aperto la casa di riposo che era posizionata in un'altra parte. Questa suora era una donna meravigliosa, addetta di chi l'ha conosciuta perché ha tantissimi anni che è morta e che ha donato veramente la sua vita per aiutare gli anziani e pensiamo che all'epoca non c'erano tutte le cose che ci sono adesso, le agevolazioni, la nostra è un'azienda pubblica di servizio alla persona. All'epoca avevano poco o niente. Inoltre lei in questa casa di riposo accoglieva anche i bambini che rimanevano orfani e tutte le persone che avevano bisogno. E per il paese veramente è stata una persona importante. Grazie Terry, la vostra realtà è uno splendido esempio per tutti quanti noi. Siamo veramente felici di aver avuto la possibilità di condividere con il nostro pubblico il cortometraggio del progetto, una fragile chiave di carta, per cui vi auguriamo un buon anno e un ottimo lavoro. Buon anno a tutti voi da parte mia e da parte di tutti i nostri anziani che sono di là, che cercano di vedere la trasmissione. Un abbraccio a tutti quanti voi. Grazie, grazie mille. Di nuovo buona giornata e buon anno. Felice solidarietà e felici diagnosi precoci, perché è importante. Bene, è giunto il momento di fare una nuova pausa, ma ritorniamo subito insieme. Restate con noi.